La prima edizione di Baccalà Re si terrà sul lungomare di Napoli dal 18 al 21 maggio, appuntamento obbligatorio per gli amanti del genere, alta qualità gastronomica da degustare con le ultime tendenze sulla trasformazione del prodotto, abbinata alla scoperta dei suoi valori nutrizionali, con seminari sulle sue origini, conservazione e preparazione, la partecipazione di chef stellati, intrattenimento e musica. Un evento nuovo perché in realtà di Baccalà a Napoli si parla all'incirca dal 1500, un evento straordinario, avremo veri e propri ristoranti che offriranno la migliore produzione disponibile sul Baccalà e il Baccalà insieme alla pizza, insieme alla bufala, insieme al caffè, insieme alla dieta mediterranea ripende il suo posto d'onore e di prestigio nella storia di questa città e nelle vie più importanti di questa città.